dobbiamo chiamare la polizia ciao ragazzi, chi ha chiamato la polizia? oh sì! ah! wow! via! fatto! ciao ciao! alla prossima! cosa fare? ho un'idea! fatto! via! wow! sì! andiamo! evviva! grazie! scusa! andiamo! ancora una volta! via! oh sì! avanti! evviva! evviva! no! 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 scusa! oh! cosa fare? andiamo! via! ancora una volta! wow! ah! 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 stop! oh oh! cos'è questo rumore? avanti! forza! forza! ah! 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 ah Fermo! Stop! No! 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 Ah! Scusa! Bene! Oh, sì! Pronti? Via! Fantastico! Attimo lavoro! Scusa! Oh! Grande! Ce l'abbiamo fatta! È stato divertente! Ciao ciao! Alla prossima! Evviva! Ciao ragazzi! Oh! 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 No! No! Splendido! Oh! Sì! Sì! Fantastico! Che forza! Non c'è di che! Fatto! Oh, sì! Che forza! Forza, forza! Ciao, ciao! Alla prossima! Pronti? Partenza? Via! Pronti? Pronti? Attento, fermo! Dobbiamo cercare aiuto! Presto, presto! Avanti, andiamo! Dobbiamo chiamare un'ambulanza! Forza, forza! Fatto! Ce l'abbiamo fatta! Grazie, grazie! Evviva! Fatto! Grazie! Hurra! Hurra! Ciao, ciao! Andiamo! Cosa fare? Wow! Ciao! Hihihi! Ah! 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 Sì, 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 sì. Cos'è questo rumore? Ehi! 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 Fermo! Fermati! Ehi! 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 Presto! Presto! Avanzi! Forza! Forza! Yes! Ehi! 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 Grazie a tutti.